Sei il video del video praticamente, è Carmine Cillo per trovare la ripresa E qua c'è un grande Giovanni che sta facendo filmini porno Sì, scaricato adesso, l'hai girato ieri, ieri No, proprio adesso, in questo momento Di venire, come ne vuoi venire di venire Di venire, non di venire Ma Carmine pure ti hai avuto a girare questi filmini? Ti prende altro il film